League of Legends contro la Selezione, terza giornata di campionato 7K, hanno appena siglato i ragazzi del videogioco della Playstation 1-0, i gialli contro i celesti, De Rosa, Salvatore, finta schema, mamma che parata, mamma che parata il portiere del videogioco Passiamo un po' la parola al telecronista Velluso, Velluso come vede la partita? Partita molto contratta, con due compagini, si vede che si temono, sta cercando di studiarsi, attenzione Tiro di Moccia Moccia! E' lui, no, ha confermato, è urlo per dire Moccia Dicevo, partita contrata Barriale, grande stop, il numero 9 C'è un inviato che sta drogato, ride, così Allora, vediamo questo buon uomo Fabrizio Anastasio Si apre, di nuovo Oh, grande intervezia Apre, apre, scusa, scusa Calcio d'angolo Gol! No, sei proprio gol, ti giuro Che flash, che capace E' un friaco anche Diciamo che il freddo ha preso anche la concentrazione Arbitro da Revolpe Detto Baiocco Mister Baiocco Anastasio, il numero 10 della sezione Diego Armando Maradona Grande tiro a giro ma Seleziona un pezzotto con la maglia Con le strisce di traverso Ma quando mai, quella è quella, la vera maglia Ah, che peccato Grande intervento di Barriale Giusto, giusto Bravo, bravo Ciro, Ciro Come è la situazione? Stiamo perdendo Ma vinciamo questa volta Sicuramente Vendiamolo, guardatelo Telecamera e Sky Letta entro dal campo Schema palo Che sfortuna Niente nera oggi la giornata per la sezione Giusto, giusto, giusto Buon uomo, ho detto il ragazzo più bello Ah, più buono Scusa, volevo dire il più buono Bello il piercing Schema Di tacco Il sinistro sul secondo palo Non c'è nessuno che ciude Oggi Grande giocate di tacco Numero diei Numero Palo Opposizione dai Buono, buono Stavo vedendo la SD Dopo questi quattro minuti Possiamo anche chiudere il collegamento Ringraziamo i gentili spettatori Un ringraziamento particolare Ciro Capitano della sezione Belli tutti quanti Vole compiti a un uomo E ringraziamo anche La League of Legends Leggends Come stramicchia si dice Vediamo questa posizione Vabbè, chiudiamo Ciao ragazzi Ciao 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 Max Ciao a tutti Ciao